Raga abbiamo trovato il cuginetto Giovanni C'è anche Aurora Sofia ma che danno qui? Il gelato Ciao a tutti amici e benvenuti nel canale di Sofì Papi E oggi che facciamo di bello Sofì? Oggi prendiamo le caramelle di Halloween Siamo in giro a Monopoli vediamo cosa è già raccolto Sofia Un bel bozzino Un lecca lecca a cuore Un duplo Ciao Raga abbiamo trovato il cuginetto Giovanni C'è anche Aurora Cos'è avuto Giovanni? Qualcosa di buono? Beh le cose di buono le ho messe tutte nelle altre cestine Caramelle 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 Beh buona caccia ci vediamo dopo ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo di là, vai, mi seguo. Sofía, ma che danno qui? Mincerato. Mincerato! Come è buono! No! 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 raga anche se sta piovendo abbiamo trovato sergio l'amico di sophie stiamo andando a ripararci in un luogo al chiuso perché qua sta iniziando a piovere tantissimo guardate tutto bagnato i bambini sono spariti completamente non c'è più nessuno adesso sofia con il cane di rebi che si è vestita da da mamma vedere le orecchie sono bellissime raga abbiamo rischiato di perdere il cane di rebi vero sophie cioè gabriele voleva accapparlo però mamma è andata a prenderlo vero facciamo gli ultimi giri perché si sta facendo veramente tardi ok grazie a tutti grazie a tutti allora ragazzi halloween quest'anno è finito come è andata avete raccolto tante cose sergio gabrie tutto ok adesso ci vediamo nell'alloween 2024 bravo 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 Grazie per la visione!